Buongiorno Antonella, buongiorno Lucia, buongiorno Idano Moscati, ma che ci facciamo qua? Noi spegniamo delle candeline stamattina, 60 candeline, mica le sue a 18 anni, 60 candeline di un film che è già storia, guardatelo e state con noi. Romolo? Romolo? Oh ma sempre tu da facci, che ti chiami Romolo? Chiamo tuo fratello. Romolo? Sì? Ciao Salvatore, fila. Vi volete tanto bene ma perché non vi sposate? Almeno regolate la situazione. Su, c'è un torcicollo che non ne posso più, me l'ha fatto venire Yolanda. Si vede che non si voleva far baciare, io sono una lombagine, capirai con questa umidità, quella sempre per Prati vuole andare, ma lo sai che ieri sera mi sono trovato un grillo intanto? Per quello che ti ho sentito che fischiavi, sbrigati va. Dì ma mamma nel suolo non ce le cambia mai? E questo che è? E il grillo di Yolanda, povere, lo credevo che se ne fosse andato, vieni qua. Mannaggia ma come tu la sera vai con le donne e poi io nel letto ci trovo l'erba, i papà e i grilli. E se sapevo così andavo a dormire a Villa Borghese, almeno risparmiamo 10 mila lire al mese, no? Salvatore, il latte si fredda. Prendimi i vestiti e portali di là. Portami a tutto e non ritornare perché c'ho sonno e tu chiudi la finestra, va. L'Italia bella, piena di speranze, piena di giovani che avevano voglia di fare ma perché no anche di sognare. Italo Moscati, 60 anni di poveri ma belli. Perché un film che raggiunge un successo enorme, fatto da, perché è da grandissimo regista già allora, Dino Risi, ma con attori che erano quasi sconosciuti, addirittura due erano minorenni? Beh, perché le cose sono cominciate anche un po' prima, che è Pane, Amore e Fantasia, no? Di Sicca, Comne, Batture, Maresciallo Carotenuto, La Lolo Brigida, e poi una serie di film che sono state chiamate le commedie leggere che seguivano il neorealismo che invece era un cinema impegnato che raccontava la guerra e la fine della guerra, le lotte partigiane e la liberazione. Quindi si è arrivato a un momento in cui il paese aveva bisogno di respirare. E cosa succede nel cinema quando si ha bisogno di respirare? Lì si va incontro al pubblico che nessuno vedeva, che era quello dei cinemini di periferia, di cinema anche parocchiali, ed era un'Italia che si informava e cercava in qualche modo di trovare un modo di esistenza in un paese che dopo la ricostruzione stava cercando il suo destino. Siamo alla vigilia del miracolo economico, ancora la gente è disorientata tra la guerra e quello che il futuro preparerà e quindi in realtà affronta il futuro con un sorriso. E il sorriso non può essere che dei giovani, anche se in quell'epoca, come ti ricorderai, un'attrice che ha avuto tanto successo si chiamava Tina Pica, era piccolina, segaligna, ma ha una potenza comica e anche una verve che tra l'altro era servita da bellissimi dialoghi scritti dai licenciatori che erano proprio bravi, venivano dalla rivista, davano al spettacolo, ma avevano la percezione di cos'era la comicità del popolo che a volte è tagliente ma è comunque anche una sua buonomia di merito. E quindi questo respiro di un paese diverso, neanche di un benessere, perché la scena che abbiamo visto Anzi, racconta, restituisce anche le difficoltà del vivere quotidiano. Ma certo, membro caratenuto, lì si è disteso in un letto che occupa semplicemente affittandolo. Esatto. Beh, questa è una grande notazione. La farà anche poi Fellini quando farà Roma. Cioè abbiamo oggi di fronte uno spettacolo di cui ci siamo totalmente dimenticati. Non a caso Italo si parla di poveri, ma belli, ma poveri sono e poveri restano. Cioè nella loro condizione di grandi sognatori abbiamo Maurizio Reno che fa il bagnino, ognuno di loro è ancora in cerca di una identità, anche professionale. A proposito di bagnino, ci sono delle scene che sono stupende nel cinema di quegli anni, ai fini di quegli anni, e che era il Tevere per esempio, sembrava Rimini, sembrava la costa Adriatica perché c'erano questi stabilimenti che avevano, erano piccoli castelli di legno che adesso invece ormai sono dispersi. Che tempi, guarda, sembra veramente di un altro senso. E i ragazzi in costume da bagno giocavano, ci afflirtavano, corteggiavano e si scambiavano battute, anche a volte piuttosto mungenti. Allora tutto questo si accompagna anche alla parola belli. Belli perché spiritosi, belli perché disincantati. Belli perché speranzosi, belli perché fiduciosi. Belli perché anche stranamente, forse per questi tempi veri, autentici fino al midollo. Persone in cerca davvero di un posto al sole, se vogliamo, di un raggio di sole. Ecco, però dobbiamo anche ricordare che è la Roma che comincia a conoscere Pasolini, arrivando nelle borgate dal Friuli, da dove ha dovuto andarsene. E allora che succede? C'è la Roma delle borgate, che comunque viene trasmessa anche da un film che poi è successivo, accattone la storia di questi giovani che devono entrare nel mondo del lavoro e che si arrangiano. E poi questi altri che sono invece il momento più leggero. Ecco, c'è più spiseriatezza, c'è più voglia di sognare in un certo senso. C'è una cosa che è un ingrediente. Il problema è che il cinema cerca gli ingredienti e ha una percezione sottilissima, a volte molto più degli psicologi di massa e dei sociologi, per determinare quello che il pubblico cerca inconsciamente. È la grande funzione del cinema che risponde alle domande del pubblico, che non le fa in maniera diretta. Di certo, leggerezza, ma anche perché no, valori. Non si dica che questi giovani valori non ne avessero. Guardiamo questo secondo passaggio di Poveri Ma Belli. Ah, un vero questo? E da dove è uscito? Ammazza che fata! E poi dicono che a questo mondo non c'è più bontà. Vita mia, amore mio, anima mia. Ma chi si muove, chi ci va a lavorare? E mica di guarda, eh? È dispettosa. Forse fai complimenti, si vuol far pregare. E bacia pure bene. Baccia freddo. Buongiorno. Ma che è successo? Qui è cambiato tutto. Sabato non c'era un calzolaio? C'era, oggi c'è una sartoria da uomo. Ah, e allora mi faccio fare subito un paio di calzoni, me li fa lei? Sì, sì. Ma le misure le prende lei? È naturale, no? E allora se è così me li faccio pure io, no? Ce n'ho di belle fatti. E se ve li volete provare? E come no? Accomodateli. Intanto levatevi i vostri, io torno su. Sì. Ma tu che dici, verrà lei a provarceli? E dai, su, svelto, levateli. Mannaggia, se lo sapevo mi cambiavo le mutantine stamattina. Siete pronti? Sì. Lo sapevo che quella ci stava. Ammazza, io con le donne c'ho un fiuto. Dai, dai. Oh, ragazzi, chi mi dà una mano? Pronti? Subito. E' un'altra. Qui in studio ancora si ride. I nostri colleghi sono un po' più giovani di noi, ma insomma ancora si ride per far capire anche questo. sono delle pellicole, chiamiamole così, immortali, attuali ancora oggi che però restituiscono anche il valore di attori che erano quasi esordienti io li voglio citare tutti, questo vorrei ricordarli a casa Renato Salvatori che poi è l'unico tra i tanti che farà la vera carriera Maurizio Arena, poi abbiamo la Lorena De Luca e Alessandra Panaro che erano 17 anni, pensate Marisa Lasio che invece tra i tanti è quella che poi più farà del cinema è stato bravorisi a puntare su di loro, come ha fatto in un certo senso ad amalgamare il tutto? Allora Cinecittà era la meta di tante persone che volevano fare un lavoro che piacesse e che in qualche modo apriva la porta a questi giovani molto allegri, anche vivaci e anche belle le donne erano molto belle e quindi da questa scena qui vediamo che viene fuori una cosa che ha una sua importanza anche culturale, la malizia la maliziosità della scena è tale per cui Marisa Lasio in questa parte mette in qualche modo in burla alla berlina questi due personaggi che sono convinti di essere dei grandi segretori e allora lei è intelligente come molto spesso le donne sono più intelligenti degli uomini in situazioni di questo genere, trova questa idea che è un'idea dello sceneggiatore che Dino Risi fa molto bene dal punto di vista dell'esecuzione perché si può scrivere una cosa ma poi se non la realizzi bene non funziona e allora questo si leva il sipario che è anche una metafora dietro a questo scanzonato mondo ci sono in qualche modo piccoli avance che a volte danno una forma di orgoglio quasi di una certa superiorità le donne sono una cosa mia, lei ci sta esatto, io sono bravo che ho capito che ci sta allora questo per esempio è una cosa divertente ma nello stesso tempo acuta in quegli anni in cui stava cambiando l'amore i sentimenti stavano in qualche modo andando verso una direzione diversa perché l'input anche del cinema americano anche dei settimanali femminili stava diventando sempre più importante diciamo che erano anche i tempi in cui le donne finalmente potevano anche dire la loro in tema di fidanzamento e matrimonio è un film che però restituisce dicevamo anche i valori la fine della storia è che i due amici fraterni sposeranno le rispettive sorelle e che Marisa Lasio che è la diva rispetto alle altre poi ritrova l'amore del suo fidanzato storico come dire ma tutto girato sul filo della leggerezza e dell'autenticità delle situazioni autenticità che ritorna anche nei sequel si chiamano oggi cioè quando noi oggi vediamo la serie 1 o serie 2 anche per poveri Mabelli ci sono due episodi successivi povere Mabelli e poi poveri milionari che hanno abbastanza fortuna povere Mabelli, Italo è più concentrato sulle donne? ma allora non si può fare un sequel come si dice se non c'è una novità bisogna puntare su una cosa qui è chiaramente anche la presenza di attrice che tu hai nominato e dell'Asio i personaggi maschili hanno una loro dominante perché il regista ha deciso con gli sceneggiatori che i poveri Mabelli sono poveri a volte nello spirito nei desideri, nelle ambizioni e quindi gioca molto invece il ruolo femminile ma bisogna rovesciare perché poi a un certo punto il problema delle donne è anche più complesso perché la donna in quel momento lì non ha e non conosceva quel tipo di emancipazione e anche di capacità di rivendicazione che poi è venuta dopo il cinema riflette queste cose è chiaro che a differenza della televisione siccome è concentrato il contenuto siccome è il modo in cui viene espressa la realtà che sta sotto le immagini le cose non possono diventare un serial perché strada facendo il serial perde diciamo dal nucleo in qualche modo di contenuti che hanno la loro legittimità di essere proposti quindi noi vediamo che in tre film si racconta sostanzialmente l'ascesa e la caduta vogliamo vedere un po' di povere Mabelli? guardate qua Salvatore che stai a fare qui? ti prego rispondimi non ti riguarda finchè non me lo dici non me ne vado ma che viene a fare? rivattene con quello là va ma questa è la voce di Salvatore che stai a combinare? che è sta casa? Salvatore non ci farei a mattire noi ti vogliamo bene se ve lo dico ve ne andate? si si di sto a rubare va bene? così mi faccio la macchina pure io come stai a rubare? stai sentito qua non fai niente lo dici tu lo sai chi c'è sta qua dentro? c'è uno che fa un buco nel negozio ma disgraziato ma che me lo vado a rovinare? ma con chi sta a parlare? no non ti preoccupa parlo con mia sorella continua ma chi è continuo? la caccia la mia! questi me lo vanno a rovinare sognare va bene ma purtroppo la realtà spesso è anche difficile e quindi questi sono gli spedienti gli spedienti che si mettono in atto fermo restando che tornando a dire è una vita bella che comunque viene raccontata Italo perché questi film? spiegaci questo funzionano ancora questi film sorvolano cioè nel senso che dicono le cose senza per questo vedere il versante drammatico lasciandolo in qualche modo intravedere e allora sorvolando succede che queste scene hanno anche una loro legittimità proprio così espressiva che quello sotto me vogliono fregare quello è un senso popolare di reazione rispetto a questi ragazzi che hanno desideri della macchina io sto a rubano perché voglio in qualche io emanciparmi con il denaro allora questo per esempio sono finezze di sceneggiatura ed è una cosa importante di tutto questo perché avviene negli anni 50 c'era una serie di scrittori che sono diventati sì sì su questo punto vero sì perché io credo che il copione la sceneggiatura sia un elemento di partenza però succede una cosa che la sceneggiatura è una cosa che si scrive quindi è orizzontale la cosa bella del cinema grazie ai registi e agli attori scenografi, costumisti gli attori è che diventa verticale le persone si devono muovere devono avere un ambiente quindi devono interagire ed è questa la cosa che tra l'altro riguarda anche il ritmo qui c'è un ritmo sostenuto nelle fiction anche televisive i ritmi non esistono c'è una dilatazione di tempi che in qualche modo penalizza il racconto la narrativa quella efficace e poi c'è l'elemento di recitazione noi abbiamo visto debuttare Miss dei premi di concorsi di bellezza che hanno imparato a dare dei registi famosi che poi sono diventati famosi a recitare, a muoversi Sofia Loren, Gina Lollobrigia quindi erano tutti personaggi che avevano solo la capacità di camminare in una passerella seminude, in costume e gli davano una bella coppa e dei fiori dopodiché quando si deve andare sul set se ci sono dei registi capaci e c'erano il personaggio viene in qualche modo plasmato e poi ci sono anche altre forme per plasmare che sono per esempio i costumi le persone che li vestono queste persone che li pettinano anzi come dice Piero Tosi che è un grande del cinema italiano proprio dal punto di vista della creazione delle immagini queste persone vanno spostate capite e incoraggiate a prendere una confidenza con un mestiere perché loro hanno li chiamano sono animali tra virgolette di scena dicevano allora i giornalisti e però avevano con loro intorno a loro per loro tutta un'equipa di persone che le valorizzavano che si prendevano cura di loro quindi tutti questi dettagli che sembrano semplicissimi non sono improvvisati sono il lavoro di una professionalità alta e quindi noi ci siamo in qualche modo tra virgolette innamorati abbiamo subito la sedizione di questo candore di questa innocenza che sappiamo che è relativa però è qualcosa che serve il nostro bisogno di identificazione e nello stesso tempo anche una contrapposizione alle situazioni che come ho detto prima è il Pasolino ce le può